E' arrivato dal pianeta e l'Ardimania Records, ancora un successo. La macchina dei successi presenta il capolavoro dell'anno, e lui, quello nato alle falde del Vesuvio. Si presenta ancora una volta con la maestria, il calore nella voce, il cuore nel canto, nasce quando il mondo è cambiato. 2012, io amo la musica, Francesco Langella. Francesco Langella, diretto dal maestro Antonio Elardi, sta arrivando l'estate, carica la musica nel cuore del sole. Francesco Langella. Io amo la musica. Hanno preso parte in questo CD, Anthony. Toi Marciano. Emanuela Biondi. Tina Sacco. La ragione per vivere nella musica. I ricordi, le passioni, i sentimenti, l'allegria, racchiusi in un unico sistema. La tecnologia di Ilardimania Records. Da questo momento gira in Europa su Marchio Zeus Records. Io amo la musica. Vivi dentro. Vivi la musica. Vivi la voce. Quella di Francesco Langella. Come la luna, le stelle, il mare. Chi tutti è noto lo ha raccossi. Con questa pelle unrucciata dal sole. Francesco Langella. Un minuto per conoscerlo. 24 ore per ascoltarlo. Caro Salvatore. Emanati mi è tenuto per ci saluta. Caro Salvatore. Ti compagno, tu non ci affanno a pensare. SC Video. Sasa Capobiondo Comunicazioni. SC Video. Sasa Capobiondo Comunicazioni.